Per Microsoft è importantissimo ed un piacere anche quest'anno essere presenti qui alla Fiera Didacta, nell'edizione siciliana, così come lo facciamo sempre anche in quella nazionale di Firenze. Per noi come Microsoft è fondamentale poter accompagnare le scuole in questo processo di trasformazione e innovazione tecnologica. Importante per noi ricordare che Microsoft non si pone semplicemente come un fornitore di servizi per la scuola, ma come un partner per accompagnarli in questo processo. In questo momento qui in questa fiera vediamo come docenti, dirigenti, ma anche tantissimi studenti si stanno interrogando su come le nuove tecnologie, sia hardware che software, possono davvero innovare la scuola e quali sono le competenze che possono dare agli studenti e chiaramente anche gli sviluppi professionali. Ricordiamo che viviamo un momento fondamentale che è quello del PNRR, che dà un boost e un'occasione unica alla scuola per innovarsi. È chiaro che nel momento in cui le istituzioni scolastiche si interrogano quali sono le competenze digitali per i lavori del futuro da poter dare agli studenti, noi come Microsoft ci poniamo in prima linea perché in quanto fornitori e sviluppatori di tecnologie chiaramente abbiamo già in dote tutte quelle tecnologie che già vediamo implementate nel mondo del lavoro e che calate nel mondo education permettono agli studenti di poter districarsi in quest'ambito e comprendere anche quelli che sono i loro indirizzi, le loro passioni e chiaramente coltivarle. Dalla cyber security all'analisi dei dati, Microsoft e il cloud di Microsoft Education ha in portafoglio la possibilità di poter davvero offrire una soluzione e una risposta a tutte le esigenze della scuola. Esigenze della scuola che chiaramente toccano vari ambiti, non solo quello della didattica, quindi della fruizione di contenuti che va anche nelle skilling, le competenze, ma anche quello della gestione della struttura scolastica. Presentiamo una nuova soluzione omnicomprensiva che è la risposta a tutte le esigenze della scuola, che include le suite di produttività, di office, quindi Word, Excel, PowerPoint, ma anche soluzioni per il coding e la gamification come Minecraft Education Edition, il gioco più giocato al mondo che aiuta gli studenti a inserire tematiche in un ambiente sostanzialmente gaming di materie che spesso non sono legate a quest'ambito, come la matematica, la chimica, ma anche lo studio della letteratura. Ma inserisce anche all'interno di questa soluzione gli strumenti per la gestione della struttura scolastica in termini di protezione dei dati, di gestione di strumenti, sia dispositivi hardware ma anche software. Ecco che è una soluzione omnicomprensiva, tra l'altro attraverso un processo di acquisto particolare che permette di poterla acquistare con durata triennale e quindi chiaramente rientrando all'interno di quelle che sono le richieste del Ministero. Per noi è un piacere essere qui e è anche un dovere quello di accompagnare le scuole in questo processo di innovazione. Come Microsoft viviamo l'education non soltanto come una delle nostre industrie ma più che altro come una missione e quindi ci ritroverete sempre qui a Fiera Didacta quest'anno e nelle prossime edizioni a disposizione di studenti, docenti e di quanti la scuola la vogliono fare e la vogliono trasformare insieme a noi.